Buonasera a tutti e benvenuti ad una rapida night session. Oggi è venerdì 25 marzo, sono le 22.45 e abbiamo due swing interessanti. Il primo ovviamente è dato dal massimo assoluto a 45.002. Wow, siamo saliti proprio vicino a dove vi avevo detto, interessante. Detto negli scorsi giorni, da quando peraltro il settimanale inverso si è vincolato a salire di prezzi su Bitcoin per il fatto che abbiamo fatto questa candela qua e quindi abbiamo continuato a salire e noi abbiamo continuato ad andare short e lo short ieri ci ha portato qua e peraltro chi ha fatto il trading di medio periodo non ha chiuso qua, ha chiuso qua sopra perché si è ingolosito quando ha visto quello che stava succedendo e si è ricordato il target dato. E qua siamo andati veramente a poco dal target dato e siamo arrivati qui sopra a 41 barre entro le 44 canoniche massime. Poi che cosa è successo? C'è stata un po' di discesa per cui a parte questo swing a 45.082 che se è violato ci porterà nei tempi corretti a proseguire eventualmente la salita ma vediamo abbiamo anche questo swing che è legato non al primo ma al secondo t-4 ovvero al secondo ciclo di metà t-3 giornaliero che è stato fatto a 12 barra 3 per 3 a 9 ore esatte e che per ora non sta producendo un massimo superiore quindi non sta producendo quello swing quella salita quella continuazione di salita che potrebbe esserci se si violassero questi massimi sta spingendo molto poco e quindi bisognerà vedere che cosa che cosa succede anche perché se avete notato negli ultimi sabati e domeniche siamo andati un po' in laterale soprattutto il sabato non sono state le giornate particolarmente emozionanti quindi sarà interessante vedere che cosa succede peraltro lato indice siamo a 8, 9, 10, 1 continua ad essere corretta per ora formalmente questa centratura ci piace, funziona è facile individuare oltretutto dove passano i t-3 ovvero i cicli giornalieri e abbiamo anche uno swing interessante qui questo è un altro di quei punti a 42.587 dollari da tenere molto d'occhio davvero tanto d'occhio facciamo ancora un passaggio che può essere magari interessante allora se torniamo qua vi ricordate che avevamo due opzioni in ballo bene da domani ne avremo solo più una perché? perché qui siamo arrivati a 44 barre ovvero come vi dicevo xunt leones se questa candela quella di oggi non diventerà verde non scenderemo l'ipotesi mensile inverso tutta questa roba qua andrà a decadere non possiamo avere dei mensili da 44 barre a meno che non si aggiunga un raccordo di che grado? raccordo inverso sempre mensile inverso raccordo inverso se non sapete rispondere a questa domanda vi suggerisco come al solito di andare a cercare la playlist sul canale che si chiama trading days e a quel punto fare i vostri conti oppure chiedere alla mail info chiocciola financial armor punto eu che è scritta ovunque sotto qualsiasi analisi praticamente ok e chiedere gli appunti gratuiti che tanti tantissimi anni fa sono stati dati a me e che io rigiro a chi me lo chiede gratuitamente sempre per cui come dicevamo questa è la candela che ci dirà che cosa succede se rimarrà verde escludiamo il mensile inverso se invece diventerà rossa potremmo avere una spinta di basso perché chiuso un t più due inverso si torna a scendere ma ribadisco non lo dico più eh uno due a questo punto vediamo c'è peraltro una bella divergenza ribassista che bisogna vedere se verrà rispettato meno massimi decrescenti massimi crescenti è l'ultima cosa che si vede e ci sono anche tante altre cose interessanti da valutare mentre sempre ribadisco sempre rimane assolutamente in piedi non può decadere ok perché ho sentito anche questo nei commenti non può decadere il fatto che essendo arrivati già a 136 giorni di un t più quattro inverso complessivamente sotto questo massimo questo t più quattro inverso lanci un biennale almeno inverso due anni e noi siamo solo a 136 giorni su 400 circa minimi e non stiamo aggiornando i massimi per ora per ora eh e chissà che cosa succederà da domani in avanti o magari già stasera a parte il colore di questa candela l'altra ipotesi era questa siamo arrivati a 24 barre durata minima con candela verde perfetta per una chiusura chiuderemo chiuderemo messi l'inverso dopo questo tacoon che potrebbe aver fatto da e torneremo a scendere perché in ogni caso che la candela rimanga verde rossa il rischio è che quando chiude un ciclo inverso raccordi a parte come al solito ma non ragioniamo sempre solo in base a quello si ritorni a scendere fatto un massimo parte un nuovo mensile inverso in questo momento si è molto fermato e su questa su questo livello bitcoin questo massimo non l'ha superato questo massimo non l'ha superato per ora non c'è superamento se continuo a tenere questo livello di resistenza vediamo vediamo che cosa succede certo comunque questo inverso e questo inverso sono due inversi neutri quindi poco forti come ribasso fanno i loro minimi ovvero i massimi per i cicli normali nella prima parte e poi non riescono a scendere sotto quindi ha perso forza rispetto a questi movimenti inverso e quindi il nostro annuale inverso per cui ribadisco occhi puntati sugli swing sui volumi e ricordiamoci sempre che chiuso ribadisco o arrivati almeno una condizione sufficiente solo per una chiusura di messi l'inverso adesso bisogna anche vedere che cosa vuole fare il nostro indice e bisogna vedere cosa fa soprattutto il nostro trimestrale che anche qui non sta aggiornando i massimi esattamente come succede per l'inverso che non aggiornano i minimi non si sale sopra cioè non si scende sotto in realtà questi minimi e qua non si sta salendo sopra questi massimi per quello che vediamo fino ad adesso e abbiamo una condizione sufficiente per la chiusura del mensile in questo preciso istante con candela verde troppo conosco ma manca un'ora manca un'ora e sette minuti alla chiusura una candela e un pezzo di un'altra candela da 45 minuti e come detto lato indice qui siamo arrivati a 30 bar devo ancora giornali grafici perché ho fatto tardino anche oggi quindi faccio questa analisi proprio perché vi voglio bene e qui siamo arrivati a 60 bar già di un trimestrale che non aggiorna i massimi non li sta aggiornando e che adesso dovrebbe avere una fase una fase di scensiva di discesa perché è vero che un mensile può arrivare fino a 43 bar però bisogna soddisfare la condizione sufficiente per la sua chiusura se questo il quarto fosse l'ultimo settimanale di questo trimestrale e bisogna come minimo tornare sotto i 40.544 dollari per cui occhio agli swing questo questo e come al solito nel gruppo premium racconterò qualche cosina per questa notte anche se ripeto sabato sono negli ultimi sabati sono stati molto in laterale e la domenica non è che abbiamo fatto cose miracolose vi ringrazio per il vostro tempo se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like ci sentiamo domani arrivederci